Sto video lo faccio proprio senza voglia perché è inutile commentare quello che state scrivendo sui social da ieri Ah siamo tornati dieci anni indietro, Mazzarri di qua, Mazzarri di là e non è da Napoli, è di qua e di là Aglio una domanda di qua voglio fare, no? Sì, sono schiattato sul divano, no? Proprio buttato così Una domanda la voglio fare Ma chi è l'allenatore? Trovatemene uno che fa sette mesi e poi si leva dai coglioni Trovatemene uno in questo momento, uno, uno Gallardo è andato ad allenare in Arabia Saudita per non so quanti milioni addirittura Conte, Conte ha già detto che un progetto già iniziato non l'avrebbe mai preso in mano E quindi questo è anche da tenere conto perché voglio un Conte poi ti costa all'incirca 11 milioni l'ordine Una cosa del genere E poi c'è chi c'era? Tudor, voglio ma Tudor Uno che vuole un contratto di due anni Se poi non mi porti in Champions League non mi fai passare il giovelli di Champions League E parte il giovelli di Champions ormai le passate, diciamo così Anche se la partita con il Braga secondo me sarà fondamentale Non penso che il Napoli faccia il risultato a Madrid Forse è Maron, eh? Ci mettesse la firma per un risultato a Madrid E poi c'era Mazzarri L'unico che ci ha avuto le palle è di dire Mi rimetto in gioco Mi riprendo il Napoli, me lo metto sulle spalle Sette mesi, un milione a stagione compreso i bonus E io mi metto là Sto zitto e faccio vedere quanto valgo L'unico è stato Mazzarri che ha voluto accettare questa cosa E ha fatto benissimo Ha fatto benissimo Mazzarri E mo Continuo a ribadire, no? Ma tu che dici Mazzarri neppure Mazzarri a ca e Mazzarri alla Ma forse c'hai la memoria corta No, perché Mazzarri sfiora addirittura lo scudetto Solo con i tre tenori lì davanti Vavezzi, Cavani e Amzic Con tre, eh? Perché dietro c'avevamo Aronica, Cannavale e Campagnale Non è che teniva Ostigard, Kim, Di Lorenzo Mario Lui e via discorrendo Cioè, quindi per farti capire il livello Il livello che Mazzarri giocò quella stagione Che arrivò secondo Dietro la Juventus di Antonio Conte E vedi, è un calcio vecchio Ma tu sei Mazzarri Se in questi due anni sei aggiornato Tu lo sai? No E allora Sarà difficilissimo fare punti Questo è normale Perché c'hai Atalanta, India, Juventus, Roma Perché Roma a dicembre la flotta Poi in Real Madrid Cioè Quindi arriva anche in un momento della stagione Che non è proprio esaltante Anzi Anzi Proprio in un momento difficilissimo di questa stagione Però ecco L'unico che può dare una grinta motivazionale a questi giocatori Che oramai non hanno più quella fiamma Come diceva Spalletti, no? Che serve la fiamma La scintilla Bisogna sempre tenerla attiva nei giocatori del Napoli L'unico che la può riportare ad accendere è Mazzarri E Mazzarri L'aronica sarà pure nello staff tecnico Caro Salvatore Fagli vedere come si spezza di piegperone Ai difensori centrali del Napoli Te ne prego Perché non è possibile vedere una squadra Che si fa passare in tutti i modi Destra, sinistra Al centro Di sopra, di sotto Cioè non si può fare Quindi ecco Lo staff oggi farà il primo allenamento Valterone Siamo fiduciosi Io sono fiducioso Non so se voi però io sono fiducioso